Attenzione concentrata su Casaletto Spartano che nel giro di poco più di una settimana è passato da 0 a 30 casi. Gli ultimi 12 riscontrati nella sola giornata di martedì. A generare il focolaio nel piccolo paese salernitano la fitta rete di palentele e rapporti che cementa la comunità locale. In un attimo il contagio si è diffuso arrivando a toccare anche gli anziani e determinando un bilancio pesante per il comune che da Oasi Felice ha dovuto improvvisamente registrare anche un decesso e un paziente trasferito al Campolongo Hospital di Eboli per le sue condizioni. Alle 15 di oggi è scattato lo screening sulla popolazione sottoposta a tampone, un percorso che il comune ha sostenuto economicamente in parte in modo che ai singoli il costo del test è stato di circa 30 euro. Prime i dipendenti, poi la protezione civile, infine il resto della popolazione. La risposta è stata massiccia. Oltre 100 i tamponi effettuati e dal comune non si esclude un possibile secondo appuntamento per continuare lo screening. Una situazione che se va nell'ottica della prevenzione dello stop al focolaio potrebbe portare anche ad un ulteriore aumento dei numeri del contagio. Il sindaco Concetta Amato ha inoltrato una nota al presidente De Luca e alla task force regionale in cui ha illustrato l'evoluzione della pandemia nel piccolo comune di 1300 anime con una popolazione in maggioranza ultra 65enne e chiesto, qualora ci fossero i presupposti, l'adozione di provvedimenti eccezionali di chiusura del territorio. Stiamo attendendo, ha detto il primo cittadino, disposizioni da parte degli organi competenti. Siamo pronti anche ad una chiusura totale alla dichiarazione di zona rossa. Per il momento abbiamo raccomandato i cittadini di rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni e di spostarsi limitatamente solo per ragioni di lavoro o per la spesa. Alle attività commerciali abbiamo chiesto, in attesa degli esiti dello screening, di chiudere volontariamente cosa che in tanti stanno facendo in queste ore.